9 decessi e 108 casi in Irpini, il bilancio del coronavirus si aggrava sempre di più. Del resto, solo nelle ultime 24 ore, si sono registrate 4 nuove vittime, 3 questa mattina e una nella serata di ieri. Un elenco drammatico che a partire dal più recente a 9 era un 84enne di Bonito, che era ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale Frangipane di Ariano. L'uomo era affetto da altre patologie e versava in gravi condizioni. C'è poi l'89enne di Monte Calvo, che al momento di ammalarsi di Covid-19, era ospite di una casa di riposo di Flumeri e il parroco 85enne di Ariano, Don Antonio Destasio, da giorni in rianimazione, che da quando era risultato positivo aveva costretto alla quarantena due suore e il vescovo del Tricolle, Monsignor Sergio Medillo, che ora piange la sua perdita. Gli ultimi due erano ricoverati al Moscati di Avellino. Infine, la scorsa sera non ce l'ha fatta anche una donna di 80 anni, di Villanoa del Battista, ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Sant'Anne San Sebastiano di Caserta. Dunque, nove le vittime da coronavirus in provincia di Avellino, dove i dati relativi ai casi toccano quota 108, mentre i comuni interessati dal contagio sono ben 26. Ecco la mappa. 57 casi ad Ariano Irpino, 7 ad Avellino, 4 a Mirabelle Clano e Mercogliano, 3 a Venticano, Chiusano San Domenico e Flumeri, 2 a Lauro, Villanoa del Battista, Solofra, Grotta Minarda, Gesualdo, Sant'Angelo dei Lombardi, Monteforte e Savignano, un caso a Forino, Montefredane, San Martino Vallecaudina, Bagnoli, Bonito, Melito, Taurasi, Scampitella, Valle Saccarda, San Michele di Serino e Monte Calvo. A questi si aggiungono anche i casi di una donna di Avellino, risultata positiva, è ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza e di un ingegnere 54enne, sempre del capoluogo ma da anni trasferitosi in Toscana per lavoro che purtroppo ieri non ce l'ha fatta.